Salve a tutti e bentrovati. Namaste. Oggi ho deciso di confrontarmi con voi perché sono un po' arrabbiata. Vedete? Sto diventando rossa, da nera a rossa, rossa dalla rabbia. E qual è il motivo? Il motivo non me lo spiego, non lo so qual è, nel senso che mi riferisco a un video. Per me sì caro perché tratta quella che è la mia bandiera, la cosa in cui credo e che porto avanti nel mio piccolo. E non pretendo dei consensi. Chi mi conosce sa, sa che io nei miei video una cosa che non chiedo mai sono mettetemi dei like, condividete il mio video. Io non mi interessa questo perché io faccio delle proposte, dei suggerimenti. Chi si appassiona, chi mi segue, naturalmente mi fa piacere, mi fa piacere il consenso, ma credo altrettanto che si possa crescere moltissimo proprio grazie alle critiche. Però se invece di essere delle critiche con dei commenti, sono dei dislike al video sulle spese e l'alternativa alle spese militari. Questo mi riferisco perché ne ho fatti tanti altri, trattando di questo tema del disarmo, della non violenza. Ho parlato di Aldo Capitini, di Gino Strada. Io mi domando, ma chi? Chi può essere in disaccordo tanto da mettere dei dislike su questi temi. La guerra, la morte dei bambini, dei bambini, dei civili. Perché non si tratta solo di armarsi e di difendersi da un nemico, si tratta di bombardare dei villaggi, di distruggere delle case, di portare malattia, morte e anche campi profughi, tante situazioni di sofferenza, di dolore. Chi può non condividere questa battaglia? Allora io capisco che non è che io per esempio, per prima, non è che condivido tutte le battaglie sociali del mondo. Posso anche fare delle scelte perché penso, non è che sono in disaccordo, le approvo, le approvo, ma non le appoggio perché non sono la mia priorità, non mi interessano particolarmente. Però non ci vado a mettere dei dislike. Non vi dico neanche quali sono, perché dire quali sono significherebbe screditarle. E quindi per rispetto a chi invece lotta, porta avanti determinate battaglie, anche se non sono le mie, però io non lo faccio e non lo farei. Allora mi domando, ma chi siete? Chi siete che avete messo questi dislike? Figli di militari? Militari? industriali? Industriali? Di industrie militari? F-35? Sottomarini? O chi produce acidi e bombe sotto banco e le va a commerciare di contrabbando? Chi siete? Allora, visto che siete così coraggiosi da commerciare, produrre o vestire panni di violenza e di guerra, sarete anche altrettanto coraggiosi se avete avuto il tempo di ascoltare il video e di mettere il dislike, anche di motivare il perché, di commentare, di esprimere la vostra critica in modo che così cresco anch'io, magari attraverso il vostro commento e capisco. Non avendo capito io che cosa carissimi farò. So che sono una youtuber, quindi comunque le mie proposte sono pubbliche attraverso dei video, mi spongo alle critiche e quindi so benissimo anche che siete voi che comandate, perché siete voi fruitori che esprimete attraverso le visualizzazioni like o dislike se vi è piaciuto quello che io propongo. E in questo caso ho avuto questo ritorno. E allora come lo interpreto? Non avendo commenti di nessun genere. Lo interpreto che essendo il mio un canale letterario di proposte svariate che vanno dalla psicoanalisi alla poesia, alla letteratura, ai saggi, alla filosofia, però comunque è sempre veicolato attraverso il linguaggio verbale, i libri, il cartaceo, i libri, allora io penso vi siete sentiti in qualche modo traditi, delusi e allora quando avete visto che io anche con tutta la mia buona volontà vi ho fornito dati per in alternativa alle spese militari, per come impiegare il denaro pubblico, per l'istruzione, per la sanità in altri campi, un impiego magari anche in relazione a questa pandemia magari più ragionevole, oculato, ma ciò non vi è piaciuto perché non c'erano questi, non c'erano i libri. Allora io vi chiedo scusa e vi annuncio che invece ci saranno, ci saranno perché io non conto di senso o non di senso, like o dislike che siano, critica o meno, di cambiare bandiera o di non trattare più questo argomento, chi poi non sarà interessato non lo guarderà semplicemente, o ancora metterà questi sciocchi, sciocchi direi dislike e qui invece però chi voleva questo approccio l'avrà. E quindi vi annuncio già che vi proporrò di Domenico Quirico, questo giornalista, un reportage dove è proprio intitolato Cos'è la guerra? Premio Terzani 2018, piuttosto recente, quindi anche il premio, dove lui dice scrivere di guerra e di migrazione e di profughi è un atto obbligatorio, contro il silenzio opaco, atroce, inumano. E poi ancora un'altra testimonianza, piuttosto tragica direi, perché si tratta di Jeanne Céline Canan, un francese egiziano nato in Italia, a Roma, che studiò ad Harvard e che purtroppo dopo aver impiegato dieci anni come volontario nelle associazioni non governative e in zone calde, pericolose del pianeta, rischiando la vita, è stato vittima nel 2003 di un attentato a Baghdad. E quindi anche con lui ci sarà occasione di poter parlare di questi temi, a me così cari. E poi naturalmente l'ausilio di un grande filosofo, scrittore, quale Gunther Anders, il cui nome tedesco, in tedesco vuol dire, lui se l'è messo proprio lui, diverso, fu tra l'altro il marito di Anne Arendt, la quale disse di aver divorziato perché non sopportava il suo pessimismo, il pessimismo di questo intellettuale filosofo ci dice tanto. Ci dice tanto o su che cosa? Sulle tre guerre mondiali. Di questo parleremo con lui, due e non tre, vedremo qual è la terza e avremo occasione veramente di riflettere con questo testo i morti molto profondo. E poi ancora l'intellettuale grandissimo Norberto Bobbio ci dà in questo libricino l'elogio all'amitezza. Veramente la misura di che cosa va coltivato va fomentato non la guerra, non la violenza, ma l'amitezza. E quindi di questo noi parleremo nei prossimi appuntamenti. Grazie per chi mi segue e spero ancora di, fatevi sotto, di ricevere delle critiche sostanziali, motivate, razionali, di spessore. Grazie. Namaste.